Sono contro la guerra in Ucraina e quindi anch'io spegnerò i termosifoni come ha fatto Gasman e sono contenta che i Maneskin abbiano scelto di non andare in tour in Russia se lo meritano i russi di non ascoltare la musica dei Maneskin e anche per questo spero che arrivi presto la guerra anche da noi e sono anche contro la guerra in Congo per questo butterò il diamante che mi ha regalato il mio fidanzato lo butterò nell'oscuro del lavandino lo farò in diretta Instagram affinché tutti sappiano che sono contro la guerra e soprattutto sappiano che c'è una guerra in Congo sono contro la guerra nelle Filippine domani stesso licenzierò Ronnie il mio filippino mi spiace ma in casa mia un musulmano non entra peggio se è filippino glielo dirò a secco così all'improvviso affinché sappia che sono contro la guerra e si ricordi che c'è una guerra nel suo paese è inutile poi che alzino il prezzo della benzina lo abbassino così perché io non uso la macchina dal 2011 perché sono contro la guerra in Siria ho abolito la plastica da qualsiasi tipo di uso ho scoperto infatti documentandomi che la Siria ha tantissimi giacimenti di petrolio e la plastica è un derivato così voglio boicottare duro e contatterò addirittura delle ONG per poter ospitare dei siriani a casa mia dei profughi adesso che va di moda che si può fare voglio che mi vedano i vicini mentre entrano in casa mia i profughi siriani così sapranno che sono contro la guerra e soprattutto che c'è una guerra in Siria da tanti anni anche in questo momento la Siria è vicina alla Giordania dove si va in luna di miele lì vicino e infine sono anche contro la guerra in Colombia, in Brasile oltre 300.000 morti la popolazione di Catania sono conflitti legati alla lotta per l'egemonia da parte dei cartelli della droga così ho deciso di boicottare e di non comprare più bamba così i miei colleghi sapranno che sono contro la guerra ma per dimostrare anche che ci sono talmente tante guerre in questo momento nel mondo che tanto vale drogarsi e di non comprare più bambini